Non esattamente dei professionisti, quanto piuttosto rapinatori di banca improvvisati, con una pista investigativa che porta dritto nell'eccese. Continua la caccia alla banda dei rapinatori che nel pomeriggio di mercoledì ha fatto irruzione nella filiale del Banco di Napoli di Via Galilei, nel pieno centro di San Donaci. Un'irruzione piuttosto coreografica alla luce del giorno, utilizzando un'auto, una Fiat con installate sul posteriore delle barre di metallo, lanciata ad alta velocità in retromarcia contro una delle vetrine dell'Istituto di Credito. Tanto rumore per nulla o quasi. Il bottino è di soli 300 euro prelevati in fretta e furia da uno sportello. Troppo rumore soprattutto per un'allerta galeotta, perché i dipendenti e l'unico cliente presente a quell'ora, poco prima dell'orario di chiusura, si sono immediatamente rifugiati, una volta capita la mala parata. Modalità insomma grottesche secondo gli inquirenti. I nemici scorsi alle prese con la ben più letale banda del Bancomat, abile a far saltare sportelli automatici con la tecnica del gas esplosivo in tutto il Salento. Questa volta non si tratterebbe di professionisti e neppure di gente del posto. Un indizio in tal senso lo ha fornito la Uno, usata come eriete, rubata nella mattinata in quelli Carmiano. Pista leccese dunque per questi artisti improvvisati della spaccata, ripresi anche dalle videocamere di videosorveglianza della banca.